Una lettera al Presidente della Regione Rosario Crocetta per esporre i disagi per la futura presenza dei tralicci dell'elettrodotto Terna a Serro di Villafranca Tirrena. Il meetup Grilli del Tirreno spiega al Governatore che in questi giorni si stanno portando avanti i lavori per piantare i piloni. A Crocetta chiede una presa di posizione chiara e netta, domandando anche perché nel tratto che interessa Villafranca Tirrena non si fa passare il nuovo elettrodotto nello stesso percorso in cui passava il vecchio. Viviamo qui da tanti anni ed abbiamo pagato mutui ventennali e fatto sacrifici per delle case che ora varranno molto meno e probabilmente non riusciremo nemmeno a vendere, prosegue il meetup, evidenziando non soltanto la vicinanza dei cavi ma anche il classico ronzio di fondo. Poi l'esposizione dei timori per la salute, soprattutto per quella dei bambini e dello stress che queste preoccupazioni già generano. Da qui l'invito al Presidente Rosario Crocetta a recarsi sul posto, lì a Serro, per condividere le preoccupazioni degli abitanti e rendersi conto di persona della situazione, in modo che possa decidere di farsi carico della tutela delle popolazioni residenti.